Insomma, se ci penso alla mia passione per la danza, io non mi considero il culto, però in tutto quel po' di giudero musico, la danza c'era anche lì, anche se è una danza molto particolare, parlata dei detenuti, il mio cinema che invece è sempre stato molto ispirato al movimento, quindi anche se non lo sapevo, era una tendenza che poi mi avrebbe portato a fare tutto il mio senso. Matteo ha visto il film solamente in fase di lavorazione per gruppo e lasciato Torino se ne è andato, quindi ti premetto che la cosa a cui si riferisce è quel famoso questionario che tu mandaste alle... Lo vede davvero tutto in genere stasera, quindi siamo ancora amici fino a stasera.